Carissimi fratelli e sorelle, buon ascolto del Vangelo di oggi secondo Giovanni 20, 24, 29. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, sette e mezzo, e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, poiché mi hai veduto, tu mi hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore Buon ascolto della lettura del commento al Vangelo a cura di Don Luigi Maria Epicoco. Oggi festeggiamo uno degli apostoli che più possono consolare la nostra esperienza di fede, San Tommaso, apostolo. Egli è universalmente conosciuto per il brano del Vangelo di oggi, in cui emerge in maniera così netta la sua incredulità. Ma è proprio questa sua incredulità che lo avvicino molto a ciascuno di noi. Infatti in ognuno è seppellita la stessa pretesa di Tommaso, anche se a volte facciamo fatica ad ammetterlo. Anche noi vorremmo che la fede fosse un'esperienza diretta con Dio e non la semplice fiducia nel racconto degli altri. In questo senso Gesù non rimprovera Tommaso perché vuole toccare, ma lo rimprovera perché non ha la pazienza di saper credere fino al punto di arrivare a toccare. Infatti ogni esperienza di fede parte sempre dalla fiducia nell'esperienza di un altro, ma ciò non significa che non dobbiamo avere il desiderio che anche noi facciamo la medesima esperienza. Si tratta però di non pensare che Dio esiste solo perché io non ho fatto esperienza diretta, ma esiste anche quando non abbiamo fatto direttamente questo tipo di esperienza. Infatti essa accade quando siamo davvero pronti e paradossalmente ciò passa attraverso il tocco delle ferite, che è un po' come dire che la fede vera diventa esperienza diretta quando il Signore si fa riconoscere attraverso ciò che normalmente noi chiamiamo debolezza. Così accade che la vita ci ferisce imprevedibilmente e in quelle ferite può accadere di incontrare Dio.